Viene preparato energeticamente. Cerchio F attraverso Francesca R a cura di VB. Guida. Abbiamo altresì fatto una richiesta noia allo strumento, di cambiare luogo d'incontro, della stanza. C'è un perché. Quanta medianità, quanti di noi sono entrati medianicamente parlando in quelle mura? Domanda. Nel corso degli anni tanti? Guida. Questa stanza non è perfetta. Vi richiede anche il buio. L'altra stanza non richiede il buio. L'altra stanza permette di stare sia con la luce accesa e sia con la luce soffusa, come volete voi. Domanda. Questo significa che quella stanza è caricata magneticamente in un certo modo? Guida. Capiamo le tue ragioni per non frequentarle in questo periodo, però per questo tipo di incontri, quella è la stanza. Tu sai che è caricata di quell'energia, di quella forma pensiero, quella stanza vibra, del richiamo della nostra presenza. Poi, appena verremo, dovremo pulirla, perché energeticamente c'è qualcosa che non è corretto, ma solo il nostro manifestarci la ripulirà. Domanda. Perché lo strumento ha detto che per oggi dovevamo stare qui? Guida. Perché non era previsto per oggi questo cambiamento? Noi ne parliamo la sera prima. Che cosa vuol dire? Che quando si decide per un cerchio di incontrarsi, il punto dove si effettua l'incontro viene preparato energeticamente ore ed ore prima per permettere il passaggio. E si crea un'apertura, una possibilità, che se lo strumento è atto, abile e capace, permette il passaggio di entità più o meno evolute.